Acquistoria Acquistoria non è solo un momento di premiazione, oggi infatti assisteremo a delle lezioni magistrali che hanno lo scopo di avvicinarci alle tematiche storiche e coinvolgerci nel programma del premio. Figure di grande spessore storico-scientifico del panorama culturale internazionale ci regaleranno approfondimenti su temi storici ma che al contempo sono anche molto attuali. La giornata si svilupperà su due tempi, questa mattina inizieremo entrando nell'universo leonardesco. Il 2019 è l'anno di Leonardo da Vinci e in occasione del 500esimo anniversario della sua morte sono state realizzate manifestazioni, celebrazioni e iniziative culturali in tutta Italia e nel mondo. Per questa ragione, questa mattina, due professori, appunto come vi dicevo, di fama internazionale verranno qua a raccontarci qualcosa di Leonardo. Avremo quindi Donald Sassoon, professore emerito di storia europea comparata alla Queen Mary University di Londra che ci spiegherà perché la Gioconda è diventato il dipinto più famoso del mondo. Poi ascolteremo Roberto Giacobbo, professore, giornalista, ideatore e conduttore della trasmissione Freedom Oltre Confine che ci svelerà un segreto dal Cenacolo Vinciano. Tra le due lezioni, ragazzi, vi premieremo, ovvero premieremo gli studenti dei laboratori di lettura vincitori del premio senatore Giacomo Piola. E quindi tra le due lezioni chiamerò sul palco sia gli ideatori del premio, sia voi ragazzi, sia coloro che vi hanno accompagnato in questo percorso. Oggi pomeriggio, e quindi qui la faccio breve perché se no non iniziamo più, oggi pomeriggio invece dalle due avremo la possibilità di ascoltare la viva voce di chi ha vissuto la storia della lotta in Valle Bormida e quindi di storia si parla, di resistenza si parla. E poi ascolteremo Jared Diamond che è un antropologo che verrà a raccontarci la storia del mondo in 13.000 anni. Per chiudere alla fine con la divisione Acqui, l'Associazione Nazionale Divisione Acqui e l'AMPI che ci parleranno di Cefalonia e con i quali poi andremo a inaugurare la nuova sede dell'Associazione Nazionale Divisione Acqui qui ad Acquiterme.